Il problema della costruzione di un grande auditorium in città è antico, ma il terremoto ha spazzato via anche quelle poche certezze che c'erano limitando gli spazi, anche se molti sono stati restituiti alla collettività, ma con spazi molto limitati rispetto alla grande domanda di arte e cultura che c'è. Il tema è stato riportato al centro del dibattito dalla Società Aquilana dei Concerti Baratelli, che ha iniziato alla grande la sua 78esima stagione dei concerti, ma che è stata costretta a fermare la campagna Abbonamenti, proprio a causa della capienza dell'auditorium del parco, che al momento è l'unica sala disponibile per i concerti, dal momento che il ridotto del teatro comunale, teatro ancora chiuso e usato dalla Sinfonica, è per la stagione teatrale. I sentimenti della Baratelli, come ha spiegato anche a rete 8 il direttore artistico Fabrizio Pezzopane, sono contrastanti perché c'è la gioia di aver esaurito in pochi giorni gli abbonamenti, ma c'è anche la preoccupazione di non riuscire ad accontentare tante richieste, proprio a causa degli spazi che non ci sono. Il problema di fondo è che l'auditorium del parco, pur essendo un luogo privilegiato anche per ciò che ha rappresentato per la rinascita, ha i suoi limiti e dunque c'è l'esigenza di considerare altre soluzioni, con sale di dimensioni più grandi tra i 500 e i 1000 posti. L'uso in passato del comunale e dell'auditorium della Guardia di Finanza, infatti, consentiva di articolare la stagione in modo da poter soddisfare più tipologie di pubblico. La Baratelli, orgoglio cittadino, ogni anno mette in campo cartelloni di respiro internazionale e dispiace che non possano essere goduti da tutti e soprattutto pubblicizzati anche fuori. Per questo è necessaria una riflessione e ovviamente il coinvolgimento delle istituzioni che, senza polemiche alcune, perché non è questa l'intenzione della Baratelli, diano risposte anche per i passi che la città si appresta a fare. Vedi la candidatura già presentata per l'Aquila Capitale della Cultura.